Complimenti ad Ambi per questa importante iniziativa sul deflusso ecologico, lo stiamo parlando anche in Senato da un mese e mezzo, tema importantissimo per la nostra agricoltura, per tutti i cittadini, l'acqua dei fiumi è sicuramente vitale, chiaro che la stiamo calcolando a livello europeo e non in Italia, i parametri vengono calcolati sulle precipitazioni medie europee e noi dobbiamo calcolarlo qui in Italia. Ci stiamo impegnando come governo, io sono anche ottimisto che quando prima si arrivi a una soluzione nell'interesse dei nostri agricoltori ma di tutti i cittadini del nostro paese.